Il nesso tra ricerca e didattica è sempre stato molto forte, soprattutto in ambito universitario, ma dobbiamo alle riflessioni sviluppatisi negli anni Sessanta, in particolare grazie a Brunner, che le sintetizzò nel suo The Act of Discovery, la formalizzazione di questo nesso in una metodologia didattica, il cosiddetto inquiry-based learning, l'apprendimento basato sull'esplorazione, sulla ricerca. Già Dewey, negli anni Settanta, aveva criticato gli approcci di tipo comportamentista all'insegnamento delle scienze, focalizzate sull'insegnamento di singole nozioni tendenzialmente frammentarie, a favore dell'importanza di utilizzare invece metodologie che aiutassero lo sviluppo del pensiero scientifico. L'inquiry-based learning si propone proprio questo obiettivo, di sviluppare conoscenze, abilità e competenze in un contesto quanto più possibile simile a quello della esplorazione, della ricerca scientifica. Come possiamo descrivere, dal punto di vista proprio operativo, un approccio basato sull'inquiry-based learning? In un contesto di questo genere, come avete incominciato a vedere all'inizio di questo video, il docente propone un tema rispetto al quale o propone direttamente lui, formula direttamente lui delle domande o aiuta gli studenti a formulare delle domande. Una volta formulata la domanda, gli studenti organizzati in piccoli gruppi si dedicano alla ricerca delle informazioni utili a rispondere alla domanda. Nel caso del video che avete visto prima, avete visto che le domande giravano intorno a un tema abbastanza intrigante di insolito, che è quello del chimici, questo preparato di origine coreana non particolarmente noto, che però può essere uno spunto interessante per introdurre tutta una serie di temi di ambito, per esempio microbiologico, regati al ruolo del microbioma nel nostro organismo e nell'apparato digerente in particolare. E, in questo caso, gli studenti sono proprio sollecitati a fare insieme una ricerca di informazioni che li aiuti a rispondere alle domande formulate da loro e dal docente. Una volta completata questa fase di ricerca di informazioni, agli studenti viene chiesto di provare a formulare, quindi, una risposta alla domanda originale, al quesito di ricerca di partenza. Però, come avviene anche in ambito scientifico, il lavoro di formulazione della risposta non è mai completo se non è oggetto anche di un confronto con altri. Quindi, il docente solleciterà i piccoli gruppi ad associarsi ad altri per confrontare le ipotesi di risposta alle domande e ai quesiti di ricerca formulati all'inizio dell'esplorazione. Questa discussione porterà una selezione delle risposte al quesito di ricerca originario, fatta dagli studenti stessi che selezioneranno le risposte secondo loro più adeguate e poi saranno chiamati a condividerle nella classe più ampia e il docente guiderà una riflessione e una valutazione sull'effettiva efficacia delle risposte formulate al quesito originario. Questo processo, come è evidente, può essere anche molto breve, gestito nell'ambito di una breve lezione. Può riguardare, invece, una serie di incontri successivi in cui le varie fasi si articolino in maniera più articolata. Può prevedere attività di tipo laboratoriale, esplorative sul territorio da svolgersi anche al di fuori dell'aula per la ricerca di informazioni utili alla formulazione della risposta. L'elemento importante e caratterizzante di questo approccio è che il docente guida, innesca, la curiosità dello studente proprio come in un processo di ricerca scientifica e fornirà tutti gli strumenti, metodi, contenuti necessari a rispondere al quesito proprio come strumenti utili per formulare una risposta a una domanda. Quindi l'esplorazione, poi, dei contenuti, dei metodi, dei processi avviene in quanto funzionale alla risposta ad un quesito di tipo scientifico. Era per questo che Brunner, ma già anche Dewey, sottolineavano che questo tipo di approcci alla formazione in ambito scientifico è particolarmente valido perché sviluppa il metodo e il pensiero scientifico insieme, naturalmente, all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Grazie. 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 Grazie.